perché giuseppe è stato il mio primo regista e lui mi disse azione e io mi mossi e lui mi disse stop e io mi fermai e mi batteva il cuore a mille che non c'è verso scordarselo mi sentivo libera no perché con lui io credo che il padre mi abbia lasciato e ci abbia lasciato un unico valore no così il peso di un unico valore che è quello dell'esprimersi un bisogno che di esserci e per esserci bisognava creare qualcosa se no non c'eri questa notte ho fatto un sogno ho attraversato di corso un prato erano i posti della mia infanzia in fondo tutto era buio c'era un silenzio totale mi sono accorto che l'infanzia era il buio l'inconscio laggiù ma erano anche i miei occhi che guardavano questo buio e il cinema è un po così l'infanzia è la memoria del nostro secolo del novecento e dentro la cucina e presa cosa c'è il film e secondo te come dovrebbe essere fatto un film su villa bene raccontare l'esperienza intellettuale del fare cinema cioè non era un gesto così isolato l'uno dall'altro ma chiedersi continuamente cosa significa fare il cinema oggi la religione i rapporti familiari l'amore i sentimenti non c'era nulla che lui desse per scontato di fatto sono figlio di una sorta di plurilinguismo estremo sedimentato negli anni laggiù stanno facendo del cinema ricco quassù stiamo facendo del cinema povero chissà se alle nostre spalle qualcun altro sta facendo del cinema lo vuoi dire tu viva giuseppe sempre comunque grazie a tutti